A me il compito di presentare questa ricerca che è durata parecchi mesi e che porta dei risultati che vale la pena di vedere, molto interessanti. Perché indagare sul fabbisogno? Lo ha già detto Nicola Pinelli, sicuramente una percezione molto diffusa tra i direttori generali di una forte criticità nel reperire personale medico, l'invecchiamento della popolazione indipendente e l'incremento dei pensionamenti attesi per il futuro, quel fenomeno che viene chiamato dei baby boomers, in realtà non sono esattamente i baby boomers, sono i baby boomers del Servizio Sanitario Nazionale, quelli che sono entrati fra il 78 e l'84 quando abbiamo creato il Servizio Sanitario Nazionale. L'obiettivo della ricerca quindi è quello di dare un scenario, un'analisi realistica dell'andamento della domanda offerta di personale nei prossimi anni, analizzando anche quello che è successo nel passato. Questa è la struttura della ricerca, quindi arrivare innanzitutto a capire ad avere un punto di partenza che è stato fissato in il personale in servizio al dicembre del 2011, medici, parliamo di medici, capire che cosa è successo nel passato recente, quindi negli ultimi sei anni, quanti medici sono usciti dal Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi sei anni, l'oggi, quindi il personale medici in servizio al settembre 2017 e soprattutto che cosa accadrà nei prossimi otto anni, cercando di comprendere sia quanti medici lasceranno il Servizio Sanitario Nazionale nei prossimi otti anni e quanti nuovi specializzati saranno disponibili per sostituirli. Velocemente le dimensioni dell'analisi, quindi siamo andati a chiedere alle aziende il numero di medici in servizio a tempo indeterminato al 31-12-2011, quanti medici hanno compiuto i 65 anni di partenza fra il 2012-2017 e quanti hanno cessato l'attività dal Servizio Sanitario Nazionale, il numero di medici in servizio indeterminato al 30 settembre 2017 e ancora una comprensione di quanti medici compiranno i 65 anni nei prossimi otto anni e di quanti lasceranno il Servizio Sanitario Nazionale. La ricerca riguarda esclusivamente i medici dipendenti a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Nazionale, quindi non comprende medici e medici in generale, non comprende odontoiatri, non comprende veterinari e quant'altro e soprattutto quando va a capire chi ha lasciato il Servizio Sanitario Nazionale non comprende i trasferimenti pubblico su pubblico, quindi solo coloro che sono proprio usciti dall'SSN. Come diceva Pinelli, la quantità di aziende che ha risposto alla ricerca è altissima, 91 aziende sanitarie, sono circa il 44% delle aziende sanitarie di tutto il Paese, 52 Aslova SST, 32 aziende ospedaliere universitarie IRCS, 5 ATS e 2 aziende regionali. Una risposta che non è omogenea sul territorio nazionale, hanno risposto molto di più le aziende del centro nord, 62 l'Emilia Romagna è stata messa nel nord, 62 al nord, 11 al centro, anche se hanno risposto in molte, ma al centro fra Toscana e Marche le aziende ormai sono molto poche date i raggruppamenti che ci sono stati, e una risposta più bassa al sud e isole di 18 aziende. Complessivamente le aziende che hanno risposto sono il 44% delle aziende del servizio sanitario nazionale e corrispondono al 40% dei medici complessivi del servizio sanitario nazionale. Incominciamo a vedere i primi dati. Il primo dato è quanti medici hanno compiuto 65 anni negli ultimi sei anni. Allora, vedete una progressione che è quasi geometrica. Dei medici in servizio al 31 dicembre del 2011, 1.086 compivano 65 anni nel 2012, 1.323 e via e via fino ai 5.370 del 2017. Abbiamo scomposto in due trienni questo periodo, la media di coloro che hanno compiuto 65 anni nel primo triennio è stata di 1.380, la media nel secondo triennio fra 2015 e 2017 è stata di 3.585. Il dato dei medici che hanno compiuto 65 anni deve essere paragonato con il dato dei medici che hanno lasciato il servizio sanitario nazionale negli ultimi cinque anni. Anche qui vedete dei numeri che sono fortemente crescenti. Quasi 4.000 nel 2012, poi c'è stato un abbassamento nel 2013 e poi ricomincia la salita. 3.250 nel 2014, 4.900, quasi 5.000 nel 2016, fino ai 5.175 del 2017. Nel primo triennio la media è stata di 3.373 all'anno, che corrisponde al 2,9% della forza lavoro ogni anno. Nel secondo triennio, fra il 2015 e il 2017, di quasi 5.000, 4.844, che corrisponde al 4,2% della forza lavoro. Per avere un termine di riferimento, se la vita lavorativa è in un'azienda sanitaria di circa 40 anni e l'uscita fosse fisiologica, tu ogni anno dovresti avere una quantità di uscita che corrisponde a circa un quarantesimo, quindi al 2,5% della forza lavoro. Vediamo percentuali che incominciano ad essere fortemente superiori a questo 2,5%. Quindi, in sintesi rispetto al passato recente, i medici che hanno compiuto 65 anni negli ultimi anni sono quasi quintuplicati fra il 2012 e il 2017. I medici del servizio sanitario che escono dal servizio sanitario sono in forte incremento, per fortuna non tanto quanto i medici che compiono i 75 anni. Quindi, in media negli ultimi sei anni, 3,6% ogni anno. E l'altro dato importante, il pensionamento per raggiunti limiti d'età non è l'unica causa di uscita dal servizio sanitario nazionale. È ovvio, le persone escono perché vanno nel privato, a volte perché si ammalano, perché muoiono. Sostanzialmente, se guardiamo i dati dell'ultimo triennio, per ogni 100 medici che hanno compiuto 65 anni, 135 sono usciti dal servizio sanitario nazionale. E a questo punto incominciamo a cercare di capire che cosa succede, che cosa succederà nel prossimo futuro. Siamo andati a chiedere alle aziende di dirci qual era il personale in servizio al 30 settembre del 2017 e a questo punto andare a calcolare quanti di questi medici in servizio al 30 settembre del 2017 compiranno 65 anni nei prossimi 8 anni. I numeri sono quelli che vedete alle mie spalle. Un 2018 ancora altissimo, 5670, un 2019 che si abbassa e poi ricomincia la salita, 4800, 5500, 5300. In pratica, nei prossimi sei anni, i numeri che vi sto dando sono proiettati su base nazionale a partire da quello che chiamiamo campione ma che in realtà è metà dell'universo. 5100 medici ogni anno, e corrispondono al 4,6% del totale, ogni anno compiranno 65 anni. Forse, e l'ho indicato nella slide, si incomincerà a vedere la luce in fondo al tunnel a partire dal 2024, quando incomincia finalmente a riabbassarsi il numero di persone che compiranno 65 anni. Quindi, nell'ultimo biennio, ma parliamo del 2024 e del 2025, la media si abbassa a 4.618. Questo dato lo si apprezza nella sua devastante chiarezza dal grafico che segue, che è questo, che riporta semplicemente i dati dal 2012 al 2025 delle persone che hanno compiuto e che compiranno, dei medici che hanno compiuto e che compiranno 65 anni, nei prossimi otto anni. Per capirci, consideriamo il passato recente, quello che è avvenuto prima del 2017, e vedete come questa linea si impenna in maniera impressionante, come ricordo, da una media di 1.380 sul primo triennio a una media di 3.585 sul secondo triennio, e poi rimane su una media di 5.108 per i prossimi sei anni. Gli interventi che abbiamo, le interviste che abbiamo visto in apertura, che testimoniano una fortissima criticità nel riuscire a trovare personale medico, sono frutto di quello che è successo nel passato recente, quindi nella parte a sinistra del grafico che vi sto facendo vedere, e quello che ci aspetta nei prossimi sei anni è la parte di destra, quindi una situazione che va non solo a peggiorare ulteriormente, ma che si manterrà a questi livelli per sei lunghissimi anni. Bene, conoscendo il numero di medici che compirà 65 anni nel prossimo futuro, applicando quel dato calcolato sul passato, quindi prendiamo l'ultimo triennio, ogni 100 medici che compiono 65 anni, complessivamente 135, hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale, è possibile a questo punto, e lo abbiamo fatto, stimare le uscite per i prossimi otto anni, quindi quanti medici lasceranno il Servizio Sanitario Nazionale ogni anno per i prossimi otto anni. Ribadisco che il dato è estremamente affidabile, perché la stima di partenza è fatta su un campione che è il 44% delle aziende sanitarie. Il dato parla da solo. 7.660 nel 2018, 5.800 nel 2019, 6.500 nel 2020, 7.500 nel 2021, 7.200 quasi nel 2022 e nel 2023, per poi incominciare finalmente a calare nel 2024 e nel 2025. La media annua dei prossimi sei anni, quindi fra il 2018 e il 2023, è di 7.000 medici che lasceranno il Servizio Sanitario Nazionale ogni anno, il 6,3% totale. Se non vi ricordate le cifre precedenti, ve le ho ricordate io in questa slide, questa è la progressione. Nel primo triennio, 2012-2014, sono usciti ogni anno mediamente dal Servizio Sanitario Nazionale 3.400 medici. Nel secondo triennio, fra il 2015 e il 2017, sono usciti ogni anno mediamente 4.800 medici. Nei prossimi sei anni, ogni anno usciranno mediamente 7.000 medici dal Servizio Sanitario Nazionale. Ribadisco che se paragoniamo questa situazione che ci aspetta con la situazione di criticità che stiamo già vivendo in questo momento, l'ansia per il futuro ovviamente diventa molto forte. Capito quanti medici lasceranno il Servizio Sanitario Nazionale nei prossimi otto anni, la domanda fondamentale diventa ma quanti ce ne saranno di nuovi per riuscire a prenderne il posto per riuscire a subentrare? Beh, i nuovi medici sono ovviamente legati al tema dei nuovi medici specializzati e questo è in funzione in primo luogo dei posti di specialità ministeriali. Ricordandoci che c'è un ritardo di 5 anni. Nel 2018 escono gli specializzati che si sono iscritti al sistema di specialità nel 2013. Quindi per capirci quell'aumento a 6.000 unità che abbiamo avuto recentemente in realtà incomincieremo a vederlo fra tre anni. Oggi stanno ancora uscendo nel 2018 escono i 4.950 che si erano iscritti cinque anni fa. C'è poi il tema dei posti aggiuntivi perché le regioni finanziano dei posti aggiuntivi alle specialità che corrispondono a circa il 10% dei posti di specialità quindi vengono sommati e poi c'è un tema che raramente viene considerato invece noi abbiamo voluto assolutamente considerare nella nostra ricerca. Non tutti i medici che si specializzano ogni anno optano per entrare nel servizio sanitario nazionale. Alcuni vanno nel privato alcuni decidono di fare solo lì la professione altri fanno ricerca altri ancora vanno pochi all'estero. abbiamo cercato non esistono stime analitiche di questo di questo dato e abbiamo voluto usare un'approssimazione e in Italia più o meno i posti letto privati sono il 24% dei posti letto totale quindi ipotizziamo che il 25% dei nuovi specializzati non opti per il servizio sanitario nazionale ma opti per altre soluzioni privato e così via e attenzione è probabilmente una stima molto ottimistica molto ottimistica perché si basa solo sul tema dei posti dei posti letto vediamo i posti di specialità siamo partiti dal 2015 per avere anche un raffronto col passato i dati che vedete nella prima colonna sono i posti di specialità ministeriali aumentati del 10% quindi nel 2015 sono usciti 5500 nuovi specializzati nel 2016 e nel 2017 anche nel 2018 è l'anno in cui uscirà il minor numero di specializzati perché il 2013 era l'anno col più basso numero di posti previsti dal ministero e poi i numeri cominciano ad aumentare saranno 5500 nel 2019 6600 nel 2020 e poi si attesteranno intorno ai 6700 fino al 2022 in realtà il dato del 2023 non è prevedibile perché non abbiamo ancora i posti di specialità dell'anno prossimo per il momento abbiamo ipotizzato che siano gli stessi gli stessi di quest'anno come dicevo prima non tutti questi nuovi specializzati hanno optato e opteranno per il sistema sanitario nazionale applichiamo questa ipotesi di tre quarti quindi che almeno i tre quarti scelga del servizio sanitario nazionale e nell'ultima colonna trovate quindi il numero di nuovi specializzati a partire dal 2018 in poi che saranno realmente disponibili a subentrare alle uscite la media per i prossimi sei anni è di 4653 all'anno sicuramente vi ricordate le cifre ma ve le ho riportate in questo grafico forse non facilissimo da leggere le barre rosse sono anno per anno dal 2015 al 2023 rappresentano il numero di medici che usciranno dal servizio sanitario nazionale la barra verde rappresenta il numero di specializzanti disponibili a subentrare la barra grigia rappresenta quella quota di specializzanti che in realtà opterà per altre soluzioni allora vedete che già nel 2015 2016 2017 il numero di uscite è superiore al numero di potenziali subentranti ma a partire dal 2018 il 2018 è effettivamente l'anno terribile questa differenza aumenta in misura notevole se nel 2018 il numero delle uscite è quasi il doppio dei nuovi potenziali subentranti poi si attesta a una differenza di circa 2500 2600 ogni anno e attenzione il fatto che nel futuro vada a ridursi non è un miglioramento del problema perché noi ci trascineremo ogni anno quelli che non siamo riusciti a prendere l'anno precedente quindi se nel 2018 non riusciremo a prendere 4000 medici per la differenza fra coloro che usciranno e coloro che potranno entrare nel 2019 questa differenza sarà il 2005 ma continueremo ad avere i 4000 che non siamo riusciti a prendere nel 2018 e via via in una somma che va continuamente ad alzarsi quindi il futuro prossimo in sintesi è rappresentato da questi numeri i pensionamenti si attesteranno su un valore molto elevato i pensionamenti intendo coloro che avranno 65 anni 5100 all'anno le uscite complessive dal sistema sanitario nazionale saranno ancora più alte e si attesteranno intorno ai 7000 medici l'anno e il sistema delle specialità renderà disponibili solamente 4700 medici all'anno circa quell'effetto di somma a cui vi accennavo prima è riportato in questo grafico quindi anno per anno la barra rossa rappresenta la somma di tutti i medici che usciranno dal 2017 al 2023 usciranno dal servizio sanitario nazionale 42.000 medici circa in questo momento i medici in Italia dipendenti del servizio sanitario nazionale a tempo determinato sono 110.000 quindi parliamo di quasi il 40% della forza lavoro che uscirà nei prossimi sei anni e al tempo stesso solo 28.000 medici sempre nelle somme anno su anno saranno disponibili per sostituirli la differenza fra l'area verde e l'area rossa è la quantità di medici in meno che avremo nel sistema nei prossimi otto anni in realtà la ricerca è stata molto più approfondita oggi per ragioni di sintesi vi faccio vedere solo i dati più importanti ed è andata anche a cercare di capire il fenomeno che ho appena illustrato disciplina per disciplina allora quali saranno nei prossimi sei anni le discipline in valore assoluto quindi quelle che perderanno il maggior numero di medici non abbiamo grosse sorprese anestesia e animazione perderà 4.700 medici in 6 anni medicina interna 4.200 chirurgia generale 3.300 nella seconda colonna vedete la media annuale psichiatria 2008 cardiologia 2006 questa tabella corrisponde sostanzialmente alla percezione che tutti abbiamo delle criticità da affrontare adesso e nei prossimi anni dati meno evidenti meno ovvili da questa seconda tabella che va a vedere non solo non in valore assoluto ma in valore percentuale quindi fatto 100 gli igienisti che oggi sono presenti in servizio quanti usciranno nei prossimi sei anni e beh qui vediamo cominciamo a vedere delle cose che non sono proprio di patrimonio patrimonio comune organizzazioni e servizi sanitari di base perderà nei prossimi sei anni il 100% dei medici presenti circa igiene ed epidemiologia perderà il 93% del personale attualmente in servizio la medicina dello sport l'86% poi ci sono alcuni numeri piccoli igiene alimenti angiologia parliamo di 75 persone quindi la medicina del lavoro e sicurezza ambientale sul lavoro perderà l'81% allora focalizzo l'attenzione su questi tre dati 100% di organizzazioni di servizi sanitari di base 93% di igienisti 81% degli medici del lavoro praticamente nei prossimi sei anni azzeriamo la sanità pubblica intesa sanità pubblica come il dipartimento di sanità di sanità pubblica questo per esempio è un tema che non è nella percezione comune nostra altre significative sono malattie infettive che perderà il 76% la medicina legale che perderà il 71% la patologia clinica che perderà l'81% è interessante il fatto che qua le specialità più grosse non ci sono perché paradossalmente per esempio gli anestesisti laddove abbiamo avuto le maggiori criticità nel passato e dove siamo riusciti in qualche modo a fare più turnover per necessità più che per volontà oggi sono in qualche modo la specialità della disciplina di anestesia di eliminazione è in qualche modo pur essendo molto anziana fra le discipline più giovani che abbiamo all'interno del servizio internazionale perché siamo stati obbligati a un grosso turnover negli anni passati altro dato interessante è questo qui andiamo a vedere a mettere a confronto per alcune discipline i cessati nei prossimi sei anni e qual è la produzione sempre in questi sei anni delle varie scuole di specialità quindi entriamo nel dettaglio delle singole scuole di specialità questa è un'operazione non semplice da fare perché non c'è una perfetta continuità fra le discipline nel nostro ordinamento e le specialità quindi in medicina che usano da accettazione d'urgenza in realtà possono finire molte specialità diverse quindi è un dato un po' da prendere con le pinze però ci sono delle differenze eclatanti tornando al tema degli igienisti 3.200 non usciranno nei prossimi in questo caso abbiamo preso 5 anni e il sistema delle specialità ne sfonerà solo 609 medicina interna 2007 usciranno e il sistema delle specialità ne sfonerà meno della metà 1064 paradossale per esempio il fatto che i pediatri ma qua c'è il tema dei pediatri libera scelta quindi qui stiamo guardando solo quelli dipendenti in teoria avrebbero una maggior produzione di specializzati rispetto a quelle che sono le uscite abbiamo anche chiesto alle aziende che hanno risposto al questionario una valutazione soggettiva quindi al di là di tutto ci dite quelle che sono le specialità che voi ritenete maggiormente critiche quindi questa è una risposta non basata su dati quantitativi ma su una valutazione soggettiva delle singole aziende quindi chiedendo quali erano le 10 discipline più critiche e vediamo che nella percezione dei direttori generali grosse sorprese non ce ne sono anestesia e animazione medicina e chirurgia d'urgenza pediatria ortopedia ginecologia neonatologia radiodiagnostica e così e così via bene mi avvio a concludere facendo un paio di considerazioni e proponendo qualche domanda sia per la relazione del nostro presidente sia per la tavola rotonda che ne seguirà allora una considerazione ovvia se voi avete notato io non ho mai usato spero di non aver mai usato la parola mancheranno all'appello medici perché ricordiamoci che l'Italia è uno dei paesi del mondo occidentale col più alto numero di medici rispetto per abitanti per mille abitanti quindi c'è tutta una riflessione importante da fare se i medici che saranno in meno saranno medici che mancheranno però una cosa penso la possiamo dire per certo se le condizioni di contesto rimangono esattamente quelle che sono e per condizioni di contesto intendo in maniera molto ampia l'organizzazione dei servizi il mix di competenze fra professionisti sanitari le regole di assunzione personale le condizioni contrattuali sistema delle specialità l'organizzazione dei processi delle prassi delle procedure quindi se il sistema che conosciamo rimane esattamente così com'è beh allora non ci sono dubbi nei prossimi sei anni sarà impossibile mantenere gli attuali livelli di servizio l'altro tema meno evidente ma che io voglio evidenziare è questo allora è già in un contesto come questo la prima cosa che accade la cosa più ovvia è che le aziende incominciano a gareggiare fra di loro per portarsi via i medici questo non accadrà questo sta già succedendo sta già succedendo da due da due anni bene allora questo apparentemente potrebbe essere un gioco dispersivo in termini di risorse ma a somma zero io rubo un medico a Parma che lo ruba a Reggio che me lo ruba a me i medici continuano a girare in realtà non è quello che sta accadendo e non è quello che accadrà perché i soggetti non sono tutti uguali alcuni soggetti sono strutturalmente più deboli di altri nel riuscire ad attrarre personale e non sia chiaro perché sono meno bravi perché sono allora quali sono questi soggetti deboli beh diciamolo il pubblico nei confronti del privato quando si parla di capacità di attrarre personale è un soggetto debole quando le cliniche private sono in grado di pagare gli ortopedici quasi il doppio di quello che li pago io gli possono dire che non devono fare traumatologia perché non hanno pronto soccorsi e che non faranno guardie notturne perché riescono a organizzarsi in un modo diverso beh ho voglia competere col privato per riuscire a tenermi o a trarre gli ortopedici quindi da questo punto di vista sia chiaro solo da questo punto di vista il pubblico nei confronti del privato è un soggetto debole l'altro tema l'abbiamo visto anche in intervisti la montagna nei confronti della pianura abbiamo tutti noi penso molti di noi hanno vissuto questa cosa i caroselli delle mamme i sindaci incatenati alle porte dell'ospedale perché andavamo a chiudere le maternità che facevano 120-130 parti l'anno per motivi di sicurezza e non ci rendiamo conto che fra breve gli ospedali di montagna di collina chiuderanno non per una questione di sicurezza non per una questione di volontà ma semplicemente perché non troveremo medici che saranno disposti ad andarci c'è il tema delle strutture non universitarie rispetto a quelle universitarie è chiaro che le strutture universitarie hanno una maggiore capacità di attrazione rispetto a quelle universitarie c'è il tema delle aree metropolitane nei confronti delle aree provinciali c'è il tema del sud nei confronti del nord allora perché questa lunga disquisizione sui soggetti deboli perché noi rischiamo di avere un problema nel problema la minore disponibilità di personale medico non colpirà tutti in maniera uguale non abbasserà in modo uniforme le capacità produttive di tutti ma andrà a colpire di più i soggetti più deboli e quindi questo porterà ad aumentare ulteriormente quelle disomogeneità che già oggi ci sono e che sono un problema all'interno del sistema internazionale fra nord e sud fra montagna e pianura fra città universitarie e città non universitarie qualche domanda il primo tema è quanto tempo abbiamo per agire allora ho riproposto un grafico che ho già fatto vedere bene io spero che io penso che a noi sia chiaro ma che sia chiaro a tutti che non è che la crisi comincia oggi la crisi è già cominciata la crisi è cominciata a cavallo fra il 2016 e il 2017 e noi non possiamo permetterci i prossimi sei anni di apnea quindi è necessario come diceva Pinelli agire su binari paralleli noi abbiamo bisogno sì di azioni strutturali che nel medio lungo periodo nei prossimi sei anni arrivino a risolvere la situazione ma abbiamo bisogno anche di azioni immediate domani mattina perché questa situazione di crisi non mette il servizio sanitario in crisi nei prossimi 15 anni lo mette in crisi nei prossimi 18 mesi quindi azioni anche immediate per ragionare la crisi quindi dobbiamo riuscire comunque a ragionare su questi due binari paralleli seconda domanda molti di noi sono tre quattro cinque io ero fra questi quelli della litania bisogna assolutamente aumentare i posti di specialità però un conto era fare questa operazione quattro anni fa e un conto è farla oggi è indubbio che si debba mettere in mano il sistema delle specialità non fosse altro per i dati che abbiamo visto prima non c'è una correlazione nelle singole specialità fra il bisogno e l'offerta però se l'aumento dei posti di specialità fosse deciso domani mattina in realtà entrerebbe per il prossimo anno accademico noi i primi nuovi specializzati li vedremo grosso modo nel 2023 il 2023 è un tempo che assolutamente non è coerente con le criticità e i problemi che noi dobbiamo affrontare in questi mesi nei prossimi prossimi mesi poi c'è un altro ragionamento da fare che è questo l'ondata dei 65 anni non durerà per sempre ovviamente esauriti i famosi baby boomers cominciamo già a vedere l'ho chiamata la luce in fondo al tunnel nel 2024 e 2025 prima o poi l'ondata dei 65 anni si riattesterà su valori fisiologici e la linea che ho tracciato sul grafico è una linea molto realistica quindi ragionare solo sul tema dei posti di specialità rischia non solo di arrivare a una soluzione quando il problema è troppo tardi ma quando incominciamo a non averne più bisogno perché nel frattempo le uscite si sono riattestate su livelli fisiologici ultima riflessione per inciso aumentando i posti di specialità bisogna porsi anche il problema dei posti dell'università uno dei dati che non vi ho fatto vedere altrimenti questa relazione sarebbe stata eccessivamente lunga è quella in cui siamo andati a confrontare il numero degli usciti anno per anno dall'università con il numero dei posti di specialità e negli ultimi tre anni i dati hanno incominciato ad allinearsi negli ultimi tre anni gli iscritti all'università sono calati e i posti di specialità sono leggermente aumentati e oggi più o meno corrispondono abbiamo sempre un passato da recuperare perché continuano ad esserci in giro molte migliaia di medici laureati che ancora non riescono ad accedere alle specialità quindi bisogna anche porsi il problema se aumentiamo i posti di specialità poi ci saranno abbastanza laureati in medicina per andare ad alimentarli terza domanda l'ho citato prima l'Italia questi sono i dati OECD è uno dei fra i paesi del mondo occidentale col più alto numero di medici per mille abitanti questi sono dati del 2015 quindi penso che adesso stiamo incominciando a spostarci verso la parte destra di questo grafico e al tempo stesso è uno dei paesi col più basso numero di infermieri per mille per mille abitanti e se andiamo a guardare il rapporto infermieri medici siamo dei paesi europei quello col più basso rapporto infermieri medici d'Europa direi che alla nostra destra ci sono se non ricordo male solo Spagna e Portogallo dei paesi europei poi c'è la Cina la Turchia il Messico la Colombia ma questi non li conto bene in un contesto come quello che abbiamo appena visto in un contesto come quello che abbiamo appena descritto la domanda è ma non è che possiamo sfruttare questa crisi questo momento di fortissimo crisi per farlo diventare un'opportunità un'opportunità per che cosa un'opportunità per affrontare finalmente in modo pragmatico la discussione sul passaggio o sul mix di competenze fra medici e personale delle professioni sanitarie una discussione che non parta da una guerra di posizioni da una guerra ideologica ma che parta dal fatto che qui esiste lo spazio perché tutte le professioni cliniche assistenziali medici infermieri tecnici possano in realtà shiftare verso l'alto ci mancano gli emodinamisti ci mancano gli angiologi ci mancano i cardiochirurghi e stiamo ancora qua a chiederci se l'infermiere può stare da solo in ambulanza forse è il momento di affrontare questa discussione che non è che non sia stata fatta negli ultimi negli ultimi anni però adesso diventa una necessità ripeto che noi abbiamo delle cose che devono essere fatte nei prossimi mesi non nei prossimi anni e a questo punto anche cercare di riportarci insieme al resto del mondo occidentale tema dell'organizzazione la domanda qua è assolutamente retorica occorre modificare l'attuale organizzazione modifiche strutturali dell'offerta di servizi nuovi modelli organizzativi ospedaliere territoriali la organizzazione per processi la rigenerazione di procedure e prassi è ovvio che se manteniamo gli attuali modelli organizzativi pur perché guardate che molte delle soluzioni che si vedono che in realtà non avranno effetti nel tempo faccio due esempi su tutti il tema degli ospedali fra i 100 e i 200 posti letto tutti noi ne abbiamo tutti noi abbiamo provato a chiuderli pochissimi riuscendoci oggi uno dei temi fondamentali su questo tipo di ospedali è quello di arrivare a fare in modo che almeno non siano ospedali generali da 100 150 posti letto ma diventino il più possibile ospedali specializzati questo tipo di soluzione probabilmente non è più rinviabile perché un ospedale specializzato ci consente intanto di raggiungere i numeri del decreto ministeriale 70 la concentrazione della casistica quindi ci porta in situazioni di maggiore sicurezza ci consente di abbassare i fabbisogni personale e attenzione non lo dico perché per esempio l'ho fatto nella mia provincia un ospedale specializzato può anche essere un modo per andare a calmierare quel tema delle disuguaglianze e delle disomogeneità perché se io ho una chirurgia in un ospedale a 120 posti letto che fa un tot di casistica generalistica senza raggiungere i numeri su nessuna delle sottospecialità difficilmente riuscirò a tirare un chirurgo se in quella ospedale concentro che so io tutta la chirurgia addominale e lì e solo lì si fa tutta la chirurgia addominale della provincia beh questo può essere forse un modo per riuscire anche in un paesino di 40.000 abitanti riuscire a trarre chirurghi come come il grande policlinico universitario l'ultimo tema è l'ultima domanda è ma in questa situazione noi possiamo permetterci di avere laureati non produttivi e non sto parlando dei fanulloni di brunettiana memoria sto dicendo noi in questo momento abbiamo fra i 25 e i 30.000 medici laureati che sono che stanno studiando la specialità ne abbiamo difficile stimarli ma molte migliaia che sono laureati e non riescono ad accedere al sistema delle specialità ho voluto inserire qua dentro anche i pensionati forzati perché se da un lato è vero che si alza progressivamente l'età pensionabile e dall'altro anche vero a tutti voi sarà capitato di trovarsi obbligati per raggiunti limiti d'età a collocare in pensionamento forzato persone che sarebbero probabilmente disposte a pagare per continuare a lavorare in ospedale nella situazione che dobbiamo affrontare nei prossimi sei anni noi possiamo permetterci di avere decine di migliaia di laureati in medicina laureati hanno fatto sei anni di corso di laurea che non possono normativamente essere inseriti nel ciclo produttivo non dico fare più operatore ma meno fare le guardie di notte bene ho concluso anche io avevo la pagina dei ringraziamenti ma li ha già fatti Nicola tutti allora ne approfitto a posto dei ringraziamenti che ha già fatto Nicola più che ringraziamenti a questo punto voglio esprimere la mia solidarietà a quei colleghi e cominciano a essere più di uno che negli ultimi mesi sono stati denunciati penalmente perché non riescono a mantenere le dotazioni organiche nella situazione che abbiamo appena descritto e questa è una situazione che dovremo affrontare nei prossimi mesi grazie 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 a tutti grazie a tutti